Due sono i sistemi di pagamento elettronici collegabili ad un conto corrente bancario, le carte di debito e le carte di credito. Le prime costano di meno ma ti garantiscono somme immediatamente disponibili, le seconde costano di più perché sono tutelate maggiormente dalle frodi e ti lasciano disponibilità non immediate ma mensili, ad una data precisa. Se hai scelto la carta di debito come alternativa al contante, ti consiglio Bancomat perché è italiano ed è il più diffuso. PagoBancomat con il suo 80% è il leader del mercato italiano nel settore della carta di debito, la carta che permette di effettuare in tempo reale un pagamento in moneta elettronica tramite terminale. Quindi se un commerciante ti chiede se vuoi pagare con carta di credito o con PagoBancomat sta facendo un errore perché teoricamente potresti farlo anche con altre carte di debito. La maestro della Mastercard e la VPay della Visa sono le principali tra quelle internazionali. Dal 1983, anno nel quale fu introdotto, attraverso il PagoBancomat potevi soltanto prelevare agli sportelli automatici delle banche abilitate, i cosiddetti ATM. Dopo qualche anno sono stati introdotti anche i terminali POS e quindi è iniziata l'era dei pagamenti con il PagoBancomat, o ancora semplicemente PagoBancomat. Tuttavia esiste ancora carte che servono esclusivamente per il prelievo del contante e hanno il logo Bancomat, mentre le carte con le quali puoi anche pagare esibiscono il logo PagoBancomat. Il PagoBancomat ti viene consegnato in maniera automatica quando attivi un nuovo conto corrente, insieme al codice PIN che devi digitare quando fai un prelievo o un pagamento. Tuttavia, se bisogna dare una paghetta a un tuo figlio che minorenne e non vuoi aprire un conto corrente, per esempio, l'ideale sarebbe associare quello della tua banca ad una carta di pagamento prepagata. Ci sono addirittura certe carte Bancomat prepagate, le quali, pur non avendo un loro conto corrente esclusivo, sono dotate di codice IBAN, come se l'avessero. Sicché tuo figlio potrebbe fare le stesse cose che fai tu con il tuo PagoBancomat. Quindi potrebbe fare acquisti nei negozi, fare ricevere bonifici e perfino, in teoria, pagare un domani le bollette e ricevere lo stipendio. Logicamente, l'unica cosa che devi fare è ricordarti di caricare la carta quando è necessario, proprio come faresti con una normale carta telefonica ricaricabile. Il PagoBancomat ha dei costi nulli o anche molto bassi. Infatti, la banca esercente ha l'obbligo di non adevitarti alcun sovrapprezzo in caso di pagamento, mentre in caso di prelievo presso un ATM di una banca diversa dalla tua avrai una piccola commissione che dipende dalla banca stessa ed un limite giornaliero di 250€. Per sapere se puoi effettuare prelievi e pagamenti all'estero, ti devi accertare, oltre che della presenza in zona degli ATM abilitati, anche dell'attivazione della tua carta sui circuiti internazionali. Se lo conservi in un posto sicuro e ti ricordi sempre il codice PIN, il PagoBancomat è molto sicuro. Alla tecnologia CIP PIN da poco si è aggiunta quella contactless, che ti promette di effettuare un pagamento sotto i 25€, semplicemente avvicinando la carta al lettore, quindi senza digitare il PIN. Inoltre, esiste anche il servizio Bancomat Pay, attraverso il quale puoi acquistare facendo uso soltanto del tuo smartphone. Non devi fare altro che scaricare l'app della tua banca, o di Bancomat Pay, e inquadrare con la fotocamera il codice QR del prodotto per poi scansionarlo. L'operazione va a buon fine solo se viene confermata da te e dal commerciante, quindi in completa sicurezza. Anche in questo caso, il costo del Bancomat Pay dipende dalla tua banca. Generalmente, la maggior parte degli istituti hanno scelto di non applicare spese fisse, bensì commissioni in base all'importo trasferito. I pagamenti presso le attività commerciali sono gratuiti, dato che le commissioni vengono sostenute dal commerciante. Se hai il servizio Bancomat Pay e non usi materialmente la tua carta, ma il tuo telefono, hai anche la possibilità di effettuare un acquisto online. Se decidi in questo senso, dovrai selezionare Bancomat Pay come metodo di pagamento, mettere il numero di cellulare associato al servizio e confermare la procedura dopo aver ricevuto una notifica di richiesta pagamento sull'app della banca o di Bancomat Pay. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in tale momento. Ci vediamo al prossimo!